Prima neve dell'anno a Capracotta, è di buon auspicio Sindaco? Beh, un po' in ritardo, ma credo proprio di sì, insomma, d'altra parte la neve è importante, non solo per il turismo, per lo sci, per Prato Gentile, per gli operatori economici, ma è importante soprattutto per le riserve idriche, insomma non ce lo dimentichiamo, se fa la neve avremo anche l'acqua. Ora si spera che gli impianti di sci di fondo aprano, perché a Prato Gentile ce l'ho già 30 centimetri, di neve? Ma sicuramente, adesso aspettiamo che la neve si compatti, già credo da domani mattina, questa sera forse, saremo in grado sicuramente di cominciare con la battitura delle piste. Un paese che è abituato alla neve, quindi problemi, criticità non ci sono al momento? Ma no, non ce ne sono al momento, ho parlato con il Presidente della provincia, perché questa mattina non erano ancora partiti i mezzi sgombra neve, però adesso stanno tutti sulle strade e nel giro di qualche ora sarà tutto tranquillo, ma la circolazione è garantita, è di buon auspicio, anche se la sta facendo in ritardo, però va bene, va bene così.